La provincia di Teramo ha lavoro per programmare la ripartenza del mondo della scuola in programma per settembre. Le incognite, come noto, sono molte in primis la questione degli spazi, argomento annoso per gli istituti superiori cittadini, reso ancora più acuto dall'emergenza Covid che impone distanziamenti e più metri quadrati per all'unni insegnanti. Al momento mancano all'appello circa 20 aule, una carenza di spazi che a Teramo chiama in causa anche la Croce Rossa è stata a tempo ospitata nei locali scolastici di Viale Bovio, ma ora costretta ad andare via proprio per ragioni di spazio. Sì, in realtà è un incontro anche un po' tardivo perché comunque noi avevamo intenzione di svolgere questo tavolo molto prima, purtroppo c'è stata da risolvere la situazione dello spostamento dei locali della Croce Rossa. Qui mi preme fare una piccola riflessione, la provincia non è contro nessuna associazione, anzi il nostro Presidente si è speso affinché potessero trovare un locale idoneo per lo spostamento, ma è pur vero che noi abbiamo richiesto dei locali per necessità, perché il nostro compito oggi è garantire il diritto allo studio dei ragazzi, garantire dei locali idonei all'interno delle scuole affinché i ragazzi, i docenti e il personale che lavora all'interno delle scuole abbia sicurezza e i locali idonei per svolgere le proprie funzioni. Abbiamo fatto un tavolo con l'ufficio scolastico provinciale, adesso domani mattina il nostro dirigente con la parte tecnica farà un sopralluogo lì ai locali del Comi e da lì poi farà sopralluoghi nelle altre scuole per cercare di fare degli spostamenti che serviranno per garantire degli spazi idonei per l'apertura di settembre. Dov'è la situazione più delicata e più difficile da gestire? In questo momento riguarda tre scuole del Terramano, della città di Terramo, cioè l'Einstein, l'Ipsia Marino e il Millie. Diciamo che il Millie ha una necessità di due aule in più, dove invece abbiamo più necessità di aule e l'Ipsia Marino che in base agli spostamenti ne avrà bisogno di o 8 o 11. Noi siamo pronti a realizzare quanto di nostra competenza e soprattutto siamo pronti a fare quei lavori anche nel periodo estivo affinché il 13 settembre le scuole possano riaprire in piena sicurezza. Inoltre ci sono buone notizie sul fronte dell'edilizia scolastica perché il commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha firmato un piano straordinario da 500 milioni di euro che prevede le verifiche di vulnerabilità e ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico delle scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo.